Attesa, impazienza e nervosismo. Sono queste le sensazioni che si respirano all'IPA Boasi Cristo Redi e Cireale, dove al cronico ritardo nel pagamento degli stipendi si è aggiunto da qualche giorno lo stop da parte della regione al piano di rientro proposto dall'ente per quel risanamento finanziario da cui non si potrà prescindere se si vorrà dare un futuro all'ente di assistenza e beneficenza. A essere in discussione è la durata del piano. Mentre per i vertici dell'IPA è necessario pianificare un'azione che interessi i prossimi dieci anni, e da Palermo la richiesta è stata di rientrare in tre anni. Una richiesta che però implicherebbe un taglio del personale non solo in termine di monte ore, ma anche di veri e propri licenziamenti, scenario impensabile per un personale già in credito di 15 mensilità. Lo stallo burocratico riguarda però anche l'approvazione del bilancio preventivo 2014, che pur avendo ricevuto un benestare informale dalla regione, al momento non ha avuto il via libera dal dirigente responsabile delle IPAB a livello regionale Gabriella Garifo. Tale situazione di fatto blocca i margini di manovra già risicati del commissario straordinario dell'Oesi Cristo Re, Gian Piero Panvini, il quale ha ribadito oggi che finché dalla regione non arriveranno risposte adeguate, l'IPAB non potrà affrontare alcuna spesa, compresi tanto agognati pagamenti degli stipendi. Era stata concordata la nostra azione con l'amministrazione regionale, abbiamo seguito pedisseguamente quanto concordato, significa prevedere un piano di risanamento decennale proprio per evitare la macelleria sociale, perché facendolo in tempi più brevi sarebbe stato sicuramente dal punto di vista sociale gravissimo, che qua i dipendenti avanzano tanti stipendi, stanno venendo a lavorare nonostante la difficoltà economica che gli impedisce spesso anche di metterci i soldi alla benzina, di comparsi il biglietto dell'autobus, l'ho rappresentato alla regione e nonostante le assicurazioni avute io, i parlamentari catanesi che hanno sollecitato la regione a intervenire con celerità, nonostante le garanzie che abbiamo avuto sull'approvazione ci hanno chiesto dei chiarimenti. Questi chiarimenti a cui abbiamo risposto sono in attesa di avere una risposta definitiva e hanno chiesto di avvalersi di un parere della Corte dei Conti per superare i chiarimenti che abbiamo fornito. Nelle more abbiamo chiesto almeno di approvarci in attesa che arriva questo parere della Corte dei Conti, il bilancio di previsione del 2014 perché attualmente non siamo neanche nelle condizioni di pagare la bolletta della luce non avendo il bilancio approvato. Assolutamente non si può pagare in questo momento niente, né stipendi, né fornitori, né luce elettrica, né gas, né acqua, né telefono, non si può pagare niente perché il bilancio ancora la regione solo sta lavorando e ci ha chiesto continuamente chiaramente. fino a stamattina altri due. Di una semplicità assoluta però evidentemente i tempi, un mese e mezzo se lo sono preso per dare una risposta.